Dopo sabato siamo tutti contenti, però non abbiamo fatto ancora nulla, perché comunque la classifica è quella che dobbiamo continuare su questa strada e comunque domenica e sabato abbiamo fatto una partita ottima e abbiamo portato a casa un ottimo risultato. Almeno questa settimana concedimi un sorriso, almeno per due giorni. Noi ci crediamo, sia io che tutta la squadra, col Mist, ci credevamo prima e ci crediamo anche adesso, però ripeto, ora non è che abbiamo fatto una vittoria e i problemi sono andati via, perché comunque sinceramente abbiamo fatto una grandissima vittoria secondo me, più che altro per il morale, perché comunque venivamo da partite magari così e così. Secondo me comunque se continuiamo su questa strada di domenica con la voglia di tenere il risultato, di fare il risultato, secondo me possiamo uscire da questa situazione qua. Forse all'inizio dell'anno diciamo in casa, dobbiamo, 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 secondo me ora arriviamo in un momento anche a livello mentale dopo una vittoria di sabato, secondo me dobbiamo cercare di portare più punti possibili queste due partite in casa. Dobbiamo cercare sì di fare la partita, ma non dobbiamo sbilanciarci più di tanto, dobbiamo comunque avere pazienza che prima o poi il gol lo facciamo, perché ripeto, davanti abbiamo gente che ci può far gol, quindi dobbiamo avere solo tanta pazienza e cercare di sbagliare il meno possibile. No, guarda, abbiamo cominciato questa settimana, la settimana scorsa a provare con il centro campo a quattro, secondo me non abbiamo fatto una buona partita, secondo me. Ripeto, anche prima con il 3-5-2 secondo me non c'era tantissima differenza, solo magari siamo un po' più avanti, avendo tre punti davanti magari cerchi di avere un po' più il pallino del gioco, anche se è sabato comunque sinceramente siamo anche tanto difesi, però poi davanti abbiamo gente forte che comunque riesce a tenere la palla su, comunque con l'uno contro uno siamo abbastanza bravi. Ripeto, poi queste sono decisioni del mister, noi dobbiamo cercare di fare il meglio possibile.